Non vivere secondo ciò che vedi, vivi secondo ciò che Dio ti ha promesso, secondo ciò che tu leggi nella Sua parola e che ogni giorno ti dice. Abramo sperò contro ogni speranza. Quante situazioni nella tua vita intervengono? Persone, crisi, fatti che ti allontanano da questa speranza. Ma Dio ti dice, abbi fiducia in me. E Dio che è fedele ha dato un figlio a Sara. Viene chiamato Isacco, un nome che è una gioia, il sorriso di Dio. La fede quindi non è credere a ciò che io sento, ma alla parola di Dio, alla Sua promessa.